Bella notizia, Roma è considerata una delle città più sporche d'Europa, forse la più sporca. Hai visto mai vincere la coppa della monnezza? Oh, che pazzo sa chi sporca? Perché se io domani ti rispondono, e che sono stato io. Che vergogna. Ma allora chi è che sporca? E dice saranno gli stranieri. Sì, magari qualche svizzero, per far vedere che il paese loro è il più pulito del mondo. Sarà che io sono un maniaco della pulizia. Bello, eh? È una composizione, un quadretto romano. Oh, io ho fatto apposta, ma spesso facciamo così, eh. Che? Voi no? E infatti mica dicevo a voi, io dicevo a quelli che sporcano. Diteglielo pure voi. Hai visto mai Roma diventa più bella? Roma, caput mundi della pulizia. Pensa come ci rimangono in Svizzera.